Ciaf è un consorzio di idraulici nato nel 1970, raggruppiamo circa 70 aziende forniresi e toscane. Le principali qualità che devono avere i ragazzi di voler fare, di aver voglia di imparare un mestiere. Hai molti tirocini quindi hai la possibilità di approcciare, di avere un approccio con le aziende.